Se fossimo candidati a sindaco o al Consiglio Comunale per le imminenti amministrative, penseremmo bene se inserire o meno nel nostro programma elettorale qualsiasi riferimento al polo agroalimentare di Fumaretta. Quello, tanto per intenderci, annunciato in pompa magna nel gennaio 2023 alla presenza del Ministro Salvini. Ciò perché il Tar ha bocciato anche il secondo ricorso presentato dall'autorità portuale contro la decisione del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle foreste di escludere il progetto da quelli che avrebbero potuto beneficiare dei ricchissimi fondi del PNRR. I motivi della bocciatura del secondo ricorso sono pressoché analoghi al precedente e dovrebbero, se letti con attenzione, indurre ad una seria riflessione che però lasciamo ad altri, sempre che ce ne siano. Nel primo ricorso, ad aprile dello scorso anno, i giudici del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio avevano ritenuto le motivazioni adotte dai legali di Molo Vespucci non motivate, soprattutto perché Molo Vespucci non aveva fornito al Ministero nei tempi richiesti la documentazione e i chiarimenti integrativi alla richiesta di finanziamento. In questa seconda circostanza l'aspetto viene ulteriormente chiarito. Come spiega Shipping Italy, la graduatoria finale dei precettori del finanziamento coi fondi PNRR venne pubblicata il 22 dicembre 2022. In quella circostanza a Molo Vespucci era stato chiesto di fornire ulteriore documentazione a supporto della richiesta. Dopo 11 giorni, il 2 gennaio 2023, l'ente chiedeva una proroga di una settimana. Il Ministero rispondeva il 5 gennaio dando ulteriori 5 giorni di tempo, ma quella risposta veniva protocollata all'ente solo il 7, visto che il giorno precedente era l'epifania e gli uffici erano chiusi. In ogni caso comunque nessun chiarimento e documentazioni integrative arrivarono al Ministero anche dopo il termine di scadenza, al punto che il 30 gennaio arrivava la bocciatura definitiva. Per i giudici del Tar non merita una considerazione favorevole il lamentare lo scarso termine concesso per presentare i chiarimenti, visto che a parte l'esigenza da parte del Ministero di concludere il procedimento nel rispetto delle stringenti scadenze previste dal PNRR e dall'Unione Europea, il termine assegnato per produrre le integrazioni di 19 giorni doveva considerarsi più che congruo. Essendo irrilevante che ci si trovava in un periodo dove ricadevano festività e non avendo comunque l'autorità portuale prodotto, anche successivamente, alcun documento. Il Tar ha poi rigettato anche il secondo motivo di ricorso relativo alla presunta genericità della richiesta di integrazioni e il terzo che lamentava la carenza di un preavviso di rigetto. In questo caso, secondo il Tar, il Ministero non avrebbe infatti dovuto inviarlo per un progetto rispetto al quale aveva semplicemente chiesto integrazioni mai prodotte come condizione all'assentimento dei finanziamenti.